Flavescenza dorata è una malattia causata da microorganismi parassiti simili a batteri denominati fitoplasmi che nella vite si localizzano all'interno del sistema di trasporto della linfa elaborata provocando squilibri ed alterazioni. I sintomi sono uguali a quelli di un'altra malattia sempre causata da fitoplasmi che colpisce la vite in legno nero. In campo non è possibile distinguere due malattie sono necessarie analisi di laboratorio su campioni di foglie. La maggior pericolosità di flavescenza dorata rispetto al legno nero è la sua capacità di diffondersi nei vigneti in maniera epidemica. In poco tempo il numero di piante malate può aumentare in maniera considerevole e compromettere anche la produttività del vigneto. Il principale insetto vettore di Flavescenza dorata è una cicalina denominata Scaphodeus titanus che vive su vite e mentre punge le foglie per nutrirsi può trasmettere la malattia da una pianta malata a una pianta sana. Se in vigneto è presente l'insetto vettore una pianta malata funge da sorgente di infezione per le altre piante. Per monitorare la quantità di insetti presenti in vigneto si utilizzano trappole adesive gialle come questa. Conoscere i sintomi in campo ed individuare tempestivamente le piante malate è una misura che insieme al contenimento di insetto vettore risulta fondamentale per limitare il diffondersi di Flavescenza dorata. Trascurare i primi segnali di comparsa della malattia in vigneto può compromettere il contenimento e causare gravi danni. I sintomi possono interessare diversi organi, foglie, grappoli e germogli e possono colpire la pianta interamente o solo una sua parte anche solo pochi germogli. In piena estate per classificare una pianta malata i sintomi devono comparire in maniera contemporanea su almeno due organi ad esempio devono essere presenti sintomi sulle foglie e anche sui grappoli. La varietà Chardonnay è la più sensibile alle malattie causate da fitoplasmi e quindi a Flavescenza dorata e legno nero. I sintomi generalmente sono ben visibili e caratteristici soprattutto sulle foglie. Il ripiegamento dei margini fogliari verso il basso e la formazione della caratteristica forma triangolo è il sintomo classico di riferimento perché è anche il più diffuso nelle manifestazioni in campo. Un altro sintomo molto diffuso è l'alterazione del colore della lamina fogliare che nelle varietà a bacca bianca determina un ingiallimento della foglia e nei casi più gravi e soprattutto verso fine stagione si hanno anche delle necrosi e dei dissecamenti. Sulle varietà a bacca rossa come in questo caso Merlot le alterazioni della colorazione della lamina fogliare si manifestano con arrossamenti settoriali o dell'intera foglia che interessano anche le nervature. Con il proseguo della stagione la lamina fogliare si spessisce e le foglie al tatto assumono una consistenza cartacea. Sui germogli i sintomi si manifestano spesso con la mancata o scarsa lignificazione dei tralci. In questo caso si vede un germoglio sano che sta lignificando che diventa marrone e qui vicino invece un germoglio sintomatico che è rimasto verde. Nei casi più gravi e quando i sintomi sono anche precoci i germogli ricadono verso il basso e la pianta assume un po' un aspetto cespuglioso. Fravescenza dorata ha effetti negativi sulla produzione di uva che possono essere di tipo qualitativo ma nei casi più gravi anche di tipo quantitativo con perdite importanti. I sintomi sui grappoli infatti sono un parziale o totale appassimento degli acini e nei casi più gravi con le infezioni più precoci si ha un totale dissecamento dell'infiorescenza e una perdita totale quindi della produzione. È importante in campo non confondere i sintomi di malattie causate da fitoplasmi con altre patologie molto diffuse come ad esempio il complesso del mal dell'esca. Per il mal dell'esca il sintomo classico sulle foglie sono delle tigrature e delle alterazioni della colorazione della lamina fogliare che però non interessano le nervature. In tutti i vigneti è importante da parte dei viticoltori un costante controllo e una tempestiva eliminazione delle piante malate alla comparsa dei sintomi. Questa misura abbinata al contenimento dell'insetto è fondamentale per contenere il diffondersi di questa pericolosa malattia da quarantena.